Ieri la grande festa Palazzo Lucale per la Fondazione Ansaldo, proiezione non stopo dei meravigliosi filmati della Cineteca ed incontri su cinema, storia e industria. Lorenzo Orsini. Quando il porto lavora, Genova lavora, recita la voce narrante, qui la gente lo sa bene mentre si avvia taciturna alla fatica. Cinema e porto, cinema e industria, cinema e lavoro, ma non solo. Quando la potenza evocatrice delle immagini sa rivelare e raccontare in un attimo un mondo, un'epoca, i cambiamenti, i contrasti, i drammi, le lotte, le guerre, le tragedie, la fatica degli uomini, ma anche la gioia, la vitalità, le conquiste, la nostra storia insomma. Una giornata emozionante, quella promossa dalla Cineteca della Fondazione Ansaldo, con una serie di proiezioni e culminata nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, con un incontro sul tema la salvaguardia e valorizzazione delle fonti cinematografiche dell'impresa e del mondo del lavoro. Collegato in videoconferenza il regista genovese Giuliano Montaldo. Il fine non è mai concluso in se stesso, ma si proietta verso il futuro, perché noi lo guardiamo con occhi costantemente diversi. Quello che diceva Montanelli, un paese che non conosce il proprio passato, non può capire nulla del proprio presente, ed è fondamentale il nostro passato, ed è fondamentale che un'azienda lo abbia mantenuto. E tutto questo speriamo poi di potervelo ripresentare sul Reistoria, combinato, utilizzando i vari archivi che ormai in un paese come l'Italia devono cominciare a avere la capacità di mischiarsi, di riunirsi e di divulgarsi contemporaneamente.